Partiamo proprio da Adamo ed Eva che hanno peccato, si parla di peccato originale. La colpa di chi è? Di Adamo, di Eva? O forse non è come si ritiene, insomma, che dal momento che Dio ha creato l'uomo era inevitabile che l'uomo peccasse, perché lo ha creato peccatore. No, Dio non ha creato l'uomo peccatore, ha creato l'uomo libero, come ha creato l'angelo libero, il puro spirito libero. Ha dato il dono della libertà, che è il dono più grande che potesse dare, perché è la loro grandezza. Naturalmente uno della libertà può fare buon uso, può fare cattivo uso. Ed è il cattivo uso della libertà quello che ha creato gli inconvenienti, i mali che ci sono nel mondo. Un'altra cosa che viene subito spontanea da chiedere, ma se un uomo commette uno sbaglio, fa un peccato, fa una violenza, un crimine, perché Dio non punisce subito chi fa il male, non lo elimina subito dalla faccia della terra? Perché eliminerebbe la libertà. Dio ci ha creato i liberi, poi tira le somme alla fine, ma lì per lì non interviene. Non interviene perché se no bloccherebbe la nostra libertà. Ecco perché avvengono, non so, io penso a un caro amico che avevo, Vittorio Bachelet, l'uccisione di un uomo così retto, così buono, tante vittime dell'ingiustizia, perché Dio non è intervenuto, perché Dio non è intervenuto a salvare San Giovanni Battista, ad esempio, quando è stato arrestato, quando gli hanno tagliato la testa, non è intervenuto. Poi ne ha fatto un grande martire, l'uomo più grande che esista, il più grande dei nati di donna. Però lì per lì non è intervenuto. Don Amoto, quindi in qualche modo nella storia, nella vita quotidiana, coesistono il bene e il male, le persone buone e le persone cattive, un po' come il grano e la zizzania, della parabola evangelica. Esatto, la parabola del buon grano e della zizzania è quello che meglio si illustra, ci fa capire come il bene e il male vivono insieme, crescono insieme, fino al tempo della mietitura. Però mi permette, a questo punto sorge un'altra difficoltà, perché se noi parliamo di un Dio che deve essere giusto, che punisce il colpevole, questo non contrasta un po' con quanto ci viene predicato su Dio che è bontà, che è misericordia? Non dobbiamo dimenticare che la misericordia e la giustizia coesistono, sono interdipendenti, anche la giustizia è una virtù, come è una virtù la misericordia, per cui coabitano, convivono, si completano a vicenda. Dio non sarebbe misericordioso se non fosse anche giusto e non sarebbe giusto se non fosse misericordioso. Forse però nel corso della storia, dei secoli, si è un po' accentuato qualche volta di più la giustizia a scapito della misericordia. Si è visto un Dio troppo punitivo, troppo duro, troppo violento anche. Il Die Sire Die Silla ci fa vedere un Dio quasi vendicativo, quasi un Dio che è pronto alla punizione. Oggi però direi che si esagera piuttosto nel senso opposto, si esagera sulla misericordia di Dio al punto di negare la sua giustizia e quindi da negare l'esistenza delle punizioni che Dio dà a coloro che se le sono meritate. E qui però, subendo il problema, se Dio è buono, se Dio è misericordioso vuole la salvezza di tutti, allora secondo o meno stando dalla parte di Dio, l'inferno dovrebbe essere vuoto. Diciamo chiaro, Dio ha creato solo le cose buone, solo le cose sane, solo le cose belle. Quindi nei piani di Dio non esisteva né il male, né la malattia, né la sofferenza, né la fatica, né tantomeno l'inferno. A questo punto vorrei raccontare un episodietto. Quando padre Candido stava per cacciare via un demonio da una persona posseduta, con la sua ironia gli diceva vai, vai a Satana, vai, Dio te l'ha creata per te una casetta ben riscaldata, bella calda in cui non soffrirai il freddo. E il diavolo a un certo punto gli ha detto tu non sai niente. Quando il diavolo ha delle uscite così vuol dire che Dio gli comanda di dire una verità. Non è stato lui, Dio, a crearlo, l'inferno. Siamo stati noi. Lui non ci aveva neppure pensato. Non era nei piani di Dio l'esistenza dell'inferno. E quando io ho interrogato i demoni per dire anche tu hai contribuito alla creazione dell'inferno, sempre mi hanno risposto tutti noi abbiamo contribuito. L'inferno non è stato creato da Dio e che ci va non è Dio che ce lo manda, è lui che ci va con le sue gambe. Quindi l'inferno in qualche modo è una conseguenza della libertà dell'uomo. Esatto. È una conseguenza della libertà mal usata, dell'abuso della libertà usata contro Dio, contro le disposizioni di Dio, contro la legge di Dio, in ribellione a Dio. Per cui viene punito in maniera da distanziare la creatura, puro spirito, se si tratta di un demonio, uomo, se si tratta di un uomo, distanziarlo definitivamente da Dio. Don Gabriele, non lei chiediamo di mettersi dalla parte di Dio, di fare così il veggente, ma secondo lei l'inferno è vuoto o è pieno? Purtroppo l'inferno è pieno e tutte le visioni che hanno avuto i santi dell'inferno vedono le anime precipitare nell'inferno e noi basta che ci guardiamo intorno e vediamo quanta perfidia c'è nell'uomo in certi uomini, quanta perfidia c'è. Pensiamo alle sette sataniche ad esempio, pensiamo tanto per fare dei nomi concreti di persone viventi a tipi come un Marilyn Mason ad esempio, un satanista numero uno come Levei, come Acronly, pensiamo a persone che sono veramente possedute dal demonio che si sono consacrate a Satana e quindi non possiamo pensarle altro che all'inferno. E in questo caso il purgatorio che cosa sarebbe? Che cosa è? Il purgatorio è un ritrovato della misericordia di Dio per dare la possibilità a quelle anime che sono morte in grazia di Dio non in peccato mortale ma che non hanno completato sulla terra la loro purificazione per cui non possono entrare in paradiso ecco che Dio ha dato loro questa possibilità di completare nell'altra vita la loro purificazione quindi è un atto della misericordia di Dio aver dato questa possibilità alle anime di completare la loro purificazione. E immagino che il purgatorio sia molto pieno perché tutto sommato insomma se ci guardiamo bene tutti abbiamo bisogno di purificarci o no? Eh sì è vero e non posso dimenticare una delle frasi della Madonna di Međugorje a cui io credo della Madonna di Međugorje che diceva le anime muoiono quando muoiono non sono pronte non sono preparate per cui sono poche quelle che vanno direttamente in paradiso molti purtroppo hanno bisogno di questo passaggio nel purgatorio in cui le sofferenze sono grandissime tanto che una grande carità quella di suffragare le anime dei defunti. Ecco però la differenza tra l'inferno e il purgatorio qual è? La differenza è nettissima perché le anime del purgatorio le chiamiamo sante anime del purgatorio sono in grazia di Dio hanno la certezza del paradiso hanno la certezza della salvezza eterna mentre i dannati sono dei disperati per i quali non esiste più nessuna possibilità di salvezza. Questo diavolo è una persona reale oppure un'allegoria che indica il male così in modo simbolico metaforico? È un puro spirito un essere personale intelligentissimo di una grande potenza da notare che la sua intelligenza la sua potenza che già aveva quando era stato creato da Dio come il più bello e il più maestoso di tutti gli angeli l'ha conservata ancora la stessa potenza la stessa intelligenza solo che la usa adesso contro Dio. Quando si parla di intelligenza del diavolo vuol dire che può fare tutto può fare anche delle cose eccezionali può cambiare le leggi della natura? Non può cambiare le leggi della natura però può conoscere tantissime cose che noi non conosciamo e dedurre dal presente anche fatti futuri lui non sa il futuro ma dai fatti presenti può dedurre i fatti futuri ad esempio io non so di avere un tumore lui lo sa sa che itinerario a questo tumore può prevedere il giorno della mia morte perché da un fatto presente può ricavare un fatto futuro se no di per sé il futuro non lo conosce. Don Amoth in questo caso lei ha detto che il diavolo è un essere spirituale ma si può toccare si può fare esperienza di un essere così? Non si può fare un'esperienza sensibile perché proprio perché è uno muro spirito ecco che non può essere rappresentato ad esempio quando noi lo rappresentiamo con le corna con le ali da pipistrello con gli zoccoli lui ci gode immensamente perché il demonio fa di tutto per rendere non credibile la sua presenza fa di tutto perché non si creda la sua esistenza così può agire liberamente. E a proposito di presenza il diavolo è solo una figura della religione cristiano-giudaica oppure è presente anche in altre religioni? Il diavolo è presente in tutte le religioni in tutti i popoli in tutte le razze anche nelle civiltà più antiche c'è sempre la percezione di uno spirito maligno da cui bisogna difendersi o da cui bisogna chiedere la protezione magari con sacrifici di animali di frutti purtroppo anche con sacrifici umani magari con riti praticati dallo stregone secondo quello che è la cultura dei vari popoli ma tutti i popoli di tutti i tempi e tutte le religioni hanno la percezione dell'esistenza di uno spirito malefico. Veniamo un po' più a noi secondo la Bibbia che poi è il libro ispiratore del cristianesimo come è concepito nella scrittura il diavolo? Ecco la Bibbia ci dà l'esatta descrizione l'esatta conoscenza del demonio ossia ci dice come Dio ha creato i puri spiriti li ha creati tutti belli buoni intelligenti santi però ha dato loro il dono del libero arbitrio il dono della libertà ed ecco che Satana che era il più splendente il più bello di tutti gli esseri si è arrogato il titolo di essere come Dio anzi ha voluto essere lui Dio e allora si è ribellato a Dio trascinando nella sua ribellione uno stuolo di altri demoni e allora ribellatosi a Dio diventato nemico di Dio è diventato colui che cerca di allontanare da Dio tutte le altre creature quindi è un'azione abbastanza abbastanza concreta quella che il demonio fa un'azione estremamente concreta un'azione estremamente intelligente il demonio è attivissimo e siamo noi stolti a non renderci conto della sua presenza e della sua azione da notare che il demonio ha due azioni ha un'azione ordinaria che è quella cui lui tiene di più il tentatore tentare l'uomo al male per farlo cadere nel peccato è quella cui lui tiene di più tutti noi dalla nascita alla morte siamo soggetti alle tentazioni del demonio e Gesù facendosi uomo ha accettato anche lui di sottostare all'azione del demonio ecco tra l'altro nella Bibbia nel Vangelo assistiamo anche alle tentazioni di Gesù anche Gesù fu tentato dal demonio nel deserto fu tentato non solo nel deserto durante tutta la sua vita come in un discorso ci ha detto Giovanni Paolo II durante tutta la sua vita fu sempre tentato dal demonio anche la Madonna fu sempre tentata dal demonio questo Don Amoto mi perdoni questo vuol dire che anche Gesù sottostà al male al demonio anche Gesù era sottoposto alle tentazioni di Satana però le ha sempre vinte come l'uomo può sempre vincere le tentazioni di Satana in che modo con la vigilanza e la preghiera senza vigilanza e preghiera è impossibile resistere alle tentazioni di Satana non basta la vigilanza è fondamentale fuggire le occasioni stare attenti alla nostra natura ferita stare attenti alle tentazioni che il mondo ci presenta non basta ecco torniamo un po' al diavolo come ci viene presentato nella Bibbia che poi è la fonte della nostra ispirazione della nostra teologia e anche della nostra vita cristiana e ci sono delle figure bibliche di diavolo che possono paragonarsi in qualche modo agli dei pagani no non ci sono non è paragonabile agli dei pagani quindi è un frutto della mitologia diciamo ecco tanto per fare un esempio la mitologia porta lontano da quella che è la realtà biblica che è la realtà vera perché noi per rivelazione sappiamo con esaltezza chi è il demonio che è un puro spirito che è intelligentissimo che è fortissimo che ha una grandissima potenza e che ci tenta continuamente e che oltre all'azione ordinaria di dare le tentazioni al male al peccato può anche agire con un'azione straordinaria che è quella di dare dei mali malefici particolari potrebbe a un certo punto il demonio pentirsi e tornare un angelo buono non è possibile perché la sua scelta è una scelta irreversibile tante volte io ho chiesto al demonio tra parentesi quando ho a che fare con persone possedute dal demonio ho dialogo diretto col demonio che poi mi perdoni Don Gabriele affronteremo anche il discorso dell'esorcismo l'esperienza di Don Gabriele fatta appunto con delle persone che sono possedute dal demonio adesso però stiamo affrontando il discorso a monte quindi sulla figura del diavolo perché è importante capire prima di arrivare all'esorcismo che cos'è e come agisce il demonio quindi dicevamo il diavolo non può pentirsi non può pentirsi quando ho chiesto al demonio se tu potessi tornare indietro tu che con tutta la tua intelligenza io lo prendo in giro sei il più imbecille di tutte le creature con tutta la tua immensa intelligenza eri in paradiso e adesso sei all'inferno se tu potessi tornare indietro sempre mi hanno risposto farei la stessa scelta perché loro ritengono di avere compiuto un atto di superiorità a Dio per essersi ribellati a Dio io mi sono ribellato anche a lui questo lo dicono esplicitamente lo dicono esplicitamente io ho avuto il coraggio e la forza di ribellarmi anche a lui se ne fanno un vanto mentre è stata la loro condanna e questo quindi non c'è ritorno da questa strada non c'è ritorno è una strada senza ritorno e allora la domanda che viene spontanea sempre in successione se il diavolo ha scelto il male e non ha invocato una strada senza ritorno la persona che si danna la persona che commette peccato mortale che quindi va all'inferno secondo la tradizione cristiana potrebbe pentirsi potrebbe essere perdonata no perché la persona che va all'inferno vuol dire che si è così incallita nel male che è impossibile che retroceda anche qui un episodio da Meggiugorje mi viene spontaneo ricordarlo quando una volta Miriana la prima che non ebbe più le apparizioni quotidiane della Madonna chiese alla Madonna Madonna cara non potrebbe un dannato pentirsi e il Signore non potrebbe dall'inferno metterlo in paradiso la Madonna sorridendo ha risposto oh sì Dio potrebbe ma sono loro che non vogliono perché quando uno si incancrenisce nel male ne resta così sozzogato che è impossibile che retroceda e fa senso però sentire che ci sono degli esseri umani o degli esseri spirituali che sono così come dire impietriti induriti nel male è possibile anche a livello di una persona umana che cada in un abbatro così profondo da non riuscire più a volere il bene la persona umana finché è in questa vita può sempre pentirsi può sempre ricredersi può sempre ritornare al bene però alle volte si incancrenisce talmente nel male che non è più possibile un suo ritorno tipica la figura di Giuda quando all'ultima cena a un certo punto Gesù gli dà un boccone da mangiare e Giovanni l'Evangelista ci dice da quel momento Satana entrò in lui basta era finito era diventato un possesso di Satana come persona umana aveva già fatto una scelta definitiva e Giovanni